Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il telegiornale con le ultime notizie dal nostro territorio. Apriamo parlando di un incidente stradale purtroppo dall'esito mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, erano le 14 in provincia di Padova a Campodarsigo. In via Bollane si sono scontrati un'automobile e un furgone. L'urto violentissimo è avvenuto nei pressi di un incrocio. Il conducente della macchina è morto per le gravissime ferite che ha riportato. Ferita la persona che viaggiava con lui e pure il conducente del furgone sono stati trasportati all'ospedale. Sul posto la polstrada che ha eseguito i rilievi per ricostruire la causa di questo scontro. Un altro incidente si è verificato lungo la statale 16 a Boara Pisani tra un pullman e un furgone. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Tanta la paura tra i passeggeri presenti a bordo. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale. Si tratta dei conducenti dei due mezzi e tre passeggeri che si trovavano a bordo della Corriera. Durante tutte le operazioni di soccorso e rilievi il traffico è rimasto bloccato con pesanti ripercussioni sulla viabilità. E adesso parliamo di un uomo, un uomo di mestre che è scomparso dalla giornata di ieri. Il suo cellulare come ultima cella ha agganciato la località di Enego. Pare che l'uomo fosse diretto in montagna. Sono operativi i soccorsi, i ricercatori sono sul posto, numerose squadre tra vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Questa mattina si è alzato in volo anche l'elicottero. Da martedì non si hanno più notizie di un uomo di origini mestrine. La famiglia, non vedendolo rientrare, ha dato l'allarme e nella giornata di oggi sono partite le ricerche. L'uomo di frequente prendeva il treno per recarsi in Val Brenta, dove percorreva uno dei sentieri per andare sull'altopiano, ma dal giorno prima non ha più fatto rientro a casa. Le ricerche si sviluppano intorno al punto base costituito a Enego, dove è stata agganciata l'ultima cella telefonica. Le indagini proseguono con il personale tassa dei vigili del fuoco e personale cinofilo impegnato in zona. Incidente a Cortina, dove un piccolo escavatore si è rovesciato, leggermente ferito l'operaio che si trovava alla guida del mezzo. La squadra dei pompieri è dovuta intervenire mettendo in sicurezza il mezzo, mentre l'operatore è stato preso in cura dal 118. La scorsa notte a luna i vigili del fuoco sono intervenuti sul greto del fiume Laverda nei pressi di via Salgarona-Breganze per l'incendio di una potente berlina, un Audi modello RS. Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno spento il rogo dell'auto, risultata abbandonata e senza targhe. Sul posto si sono portati i carabinieri per le indagini. Chiaramente dovranno appurare il motivo del perché quell'auto fosse finita dentro al fosso e perché sia andata bruciata. Dramma a Sandonà di Piave, un minore, un ragazzo di appena 17 anni, è stato trovato senza vita all'interno dell'abitazione di un amico. La morte sarebbe sopraggiunta nel cuore della notte. A trovarlo è stato proprio l'amico che ha dato l'allarme in mattinata. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Non viene esclusa l'ipotesi di un'overdose da psicofarmaci. Ieri pomeriggio a Montagnana in provincia di Padova, lungo la via dove c'è il muro di cinta di Montagnana con tutti i merletti, sono caduti alcuni calcinacci che hanno addirittura colpito un'abitazione. Sentiamo. Alcuni frammenti delle mura di cinta di Montagnana in provincia di Padova sono caduti su un'abitazione lungo la cinta. Il tetto della casa è rimasto parzialmente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e provveduto a verificare alcuni merli della città murata. I pompieri, accorsi da est anche con l'autoscala, hanno effettuato una verifica del distacco di alcuni pezzi della merlatura e dei danni provocati al tetto della casa sottostante. Al sopralluogo hanno partecipato anche i tecnici del comune di Montagnana. In via all'Europa a Treviso la polizia nell'ambito dei controlli che il questore ha intensificato ultimamente è stata fermata. Un'automobile sospetta. All'interno c'erano quattro uomini, tutti risultati con vari precedenti. Inoltre c'erano numerosi arnesi da scasso. Alle spalle di questi soggetti numerosi reati di natura predatoria. Il questore di Treviso è messo nei confronti del gruppetto un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Treviso per tre anni. Due incidenti mortali si sono verificati nelle prime ore di stamane lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine e un secondo sulla Trieste-Venezia. Il primo alle 7.30 e fino alle 9.45 il traffico ferroviario tra Sacile e Conegliano è stato sospeso per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona da parte del regionale 11.008 a cavallo tra Veneto e Friuli. Nelle stazioni di Sacile e Conegliano i viaggiatori sono stati assistiti dal personale Trenitalia mentre è stato attivato un servizio di bus sostitutivi e collegamenti straordinari addirittura con taxi per le persone diretti negli aeroporti di Treviso e Venezia. Ripresa invece alle 6.10 al termine dei rilievi dell'autorità giudiziaria la circolazione che era rimasta bloccata sulla linea Trieste-Venezia sospesa dall'una della notte per l'investimento di una persona. I vigili del fuoco oggi festeggiano la patrona Santa Barbara pubblicando i dati del loro operato. Sono 45.651 gli interventi dei pompieri nel periodo che va da gennaio 2018 a novembre 2019 in tutta la regione Veneto. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stato un aumento di 2.215 interventi. Secondo i dati pubblicati dagli operatori del 115 gli interventi del comando di Venezia sono stati quelli più numerosi seguiti da Treviso, Padova, Vicenza e Verona. E adesso parliamo di solidarietà, parliamo del progetto dei ragazzi Down Daddy di Padova con decorazioni fatte a mano in vista del Natale. Un bellissimo progetto, sentite? Si è tenuta stamane presso l'Aliper di Via Saetta a Padova la presentazione del nuovo progetto di inclusione sociale firmato da Down Daddy. I ragazzi della cooperativa Vite Vere si sono adoperati per creare degli addobbi natalizi fatti a mano in vendita a 2 euro presso i negozi Aliper di Padova in Via Saetta, Abano, Selvazzano e Ali di Via dei Colli. Da D-Shop è il laboratorio dove nascono idee sempre nuove. A sostenerlo è Anna Pretolani, la responsabile del negozio che si trova nel centro commerciale Il Bacchiglione a Tencarola. Cosa mi insegnano? Il fatto che le persone sono tutte assolutamente diverse, che vanno valorizzate per quello che sanno fare perché tutti hanno delle grandi abilità. Si tratta solo di metterle insieme sia le nostre, che non sempre sono così artistiche, che le loro e insieme riusciamo a fare degli ottimi prodotti. L'obiettivo è quello di dare dignità alle persone, sottolinea la presidente della cooperativa Patrizia Tolot, come sentiamo nelle sue dichiarazioni. Noi siamo molto felici e devo dire la verità che questo progetto sta dando anche ai ragazzi tantissimo. Voi immaginate, soprattutto per dei giovani che escono dalla scuola superiore, quale sia il problema grosso di pensare cosa poter farne la loro vita futura. Questo progetto permette loro di lanciarsi in un mondo completamente nuovo e diverso, che è quello della vita vera, che è quello del lavoro. Presente all'evento anche Marco Canella, responsabile affari generali di Ali dal 2013. Infatti, Ali sostiene questi ragazzi per aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Beh, apporta, come potete vedere, veramente tantissime novità, sorprese. Noi siamo veramente entusiasti di collaborare con loro, perché è veramente un'associazione, una cooperativa sprizzante. Nel senso proprio ha tante idee fantasiose, noi le accogliamo e le proponiamo insieme a loro. Beh, chiediamo a tutti i nostri clienti un piccolo contributo per così acquistare queste bellissime decorazioni per il Natale e quindi fare un'opera di generosità. E c'è un altro incidente purtroppo con un autobus coinvolto dalle 16 di oggi pomeriggio. I vigili del fuoco hanno operato a San Liberale a Marconna per l'incendio di un autobus del trasporto pubblico alimentato a metano. Fortunatamente in questo caso nessuna persona è rimasta ferita. L'autista si è accorto che qualcosa non andava e ha dato l'allarme facendo scendere tempestivamente tutti i passeggeri mentre l'autobus prendeva fuoco. I pompieri sono arrivati con 5 automezzi, 16 gli uomini al lavoro per domare l'incendio. Dopo il mezzo è stato bonificato e messo in sicurezza. E fortunatamente, come avete sentito, non sono stati registrati feriti. Adesso parliamo di un altro evento che si svolgerà in tutta la provincia di Padova. Parliamo del Natale, della sua magia e della musica. Si chiama Un Natale a tutta musica ed è la rassegna di concerti natalizi che le bande padovane porteranno nei comuni del territorio. Dal 7 dicembre fino al 6 gennaio scuole e chiese e persino una struttura ospedaliera saranno invase dall'allegria di gruppi musicali Cori e Majorette che proporranno musiche di Natale e altri generi. La Kermesse, organizzata da AMBAC Veneto, l'associazione musicale di bande assiemi e complessi, con il patrocinio della provincia è stata presentata dal consigliere provinciale delegato alla cultura Elisa Venturini e dal vicepresidente provinciale dell'AMBAC di Padova, Tiziano Lazzarin. Ma diciamo che in questo periodo è natalizio, abbiamo bisogno un po' di rallegrare l'atmosfera e le bande riescono a farlo nella maniera migliore attraverso la musica, non solo le bande ma anche le maggiorette. Ci propongono 17 concerti in giro per la provincia di Padova, uno anche presso una struttura ospedaliera e questo dà l'idea anche di come le bande e la musica riescono ad entrare anche nei luoghi più insoliti proprio per portare un po' di allegria e di buon umore. Grazie all'AMBAC, che è l'associazione che raduna le bande della provincia di Padova, si dà l'opportunità di trasmettere la musica e di coinvolgere così le persone in momenti di festa. Allora naturalmente vi invitiamo tutti ai concerti delle bande padovane. Tiziano Lazzarin, vicepresidente provinciale dell'AMBAC di Padova. I momenti più importanti sono nell'ambito di tutte le chiese perché la gran parte sono dentro all'interno delle chiese e noi come Monseriti invece lo facciamo all'interno dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta a Padova Sud in cui abbiamo banda, maggiorette e gruppo alpini che fa d'accordo. Noi è il secondo anno che facciamo questo esperimento, però è importante in tutta la provincia di Padova che le bande siano presenti per valorizzare questo patrimonio culturale locale. La rassegna inizierà il 7 dicembre alle 20.30 con il primo appuntamento alla scuola Canova di Loreggia. In tutto saranno 17 gli eventi che termineranno il 6 gennaio 2020 e la chiesa parrocchiale di Carbonara di Rovolonga. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche. La presenza sul continente europeo di alta pressione garantisce sulla nostra regione ampi spazi di sereno e incrementa l'inversione termica fino al formarsi di alcune nebbie e vari nubi basse sulle zone pianeggianti. La circolazione diventerà nei prossimi giorni un po' ciclonica ma leggermente portando solo qualche nube alta ed erodendo l'inversione soprattutto a fine periodo ma sulle zone di montagna. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata.